buona giornata amici da massimo foghetti oggi è 28 maggio sabato 28 maggio 2022 siamo ad un weekend l'ultimo weekend del mese di maggio e poi imboccheremo giugno che è il mese estivo per antonomasia ma oggi il tempo è cambiato e vedremo poi le previsioni del tempo intanto iniziamo la nostra rassegna stampa questa mattina con il santo del giorno e vediamo che libro ci propone san germano di parigi ovvero san germen così viene più conosciuto visse al tempo dei merovingi siamo intorno all'anno 500 svolse un ruolo decisivo nel consolidamento della chiesa e della monarchia in francia fu nominato vescovo di parigi e si distinse per una forte pratica ascetica e l'attenzione ai poveri cui destinava gran parte dei beni del proprio monastero san germen de pari insomma questo è il santo che si venera nella giornata di oggi e detto questo passiamo alle previsioni del tempo vediamo la grafica che è molto significativa perché vediamo come su tutta la regione si estende qualche nuvoletta in più rispetto a ieri anzi oggi il cielo letteralmente coperto il tempo è variabile con piovaschi sparsi sulle pianure e sull'appennino fin dal pomeriggio il clima si mantiene mite le temperature massime si aggireranno sui 27 gradi insomma oscilleranno tra i 24 e 27 siamo una temperatura più umida rispetto ai 31 32 dei giorni scorsi i 20 ispireranno da una direzione di nord est sulle coste e da est per quanto riguarda l'entroterra prima di iniziare le notizie di cronaca oggi volevo fare gli auguri al fano calcio che domani vediamo qui l'apertura sul resto del carlino domani incontra il castelfidardo è una partita decisiva ma anche il castelfidardo ci crede perché anche il castelfidardo vuol restare in serie di castelfidardo ci crede il fano è avvisato il tecnico avversario piccioni interviene sullo spareggio di domani al mancini il fano gioca in casa conquistato con il sudore ora i nostri tifosi ci seguono dobbiamo dire che il fano però si prepara in maniera piuttosto così ottimistica per quanto riguarda questa partita ha vinto entrambe le gare all'andata e al ritorno al mancini all'andata si è imposto per 2 a 1 grazie alle reti di tortori domenica però non giocherà perché è squalificato e di casolla inframmezzate dal pareggio di cardinali mentre al ritorno è stata una rete di broso a siglare il successo in trasferta dei granata e ovviamente non c'è due senza tre per cui noi di fano speriamo che vinca il fano e si consolidi la sua permanenza in serie di e poi ovviamente chi è tifoso di castelfidardo ha pieno diritto di sostenere la propria squadra quindi auguri ad entrambe ed ora diamo un'occhiata invece alle giornate alle notizie di cronaca a partire dal resto del carlino dove vediamo che salgono alla ribalta di nuovo gli ambientalisti salvate quegli alberi questa volta non sono gli alberi di piazza marcolini ma sono gli alberi di piazza andrea costa dove si svolge il mercato e dove l'amministrazione comunale ha ideato un nuovo progetto di arredo nuovo progetto che però prevede l'abbattimento di 16 tigli e la sostituzione di altri due insomma una tabula rasa che non piace a chi sostiene la vita degli alberi e soprattutto lupus in fabula interviene per salvare queste ulteriori piante da piazza marcolini a piazza andrea costa la battaglia di lupus in fabula per salvare gli alberi si sposta dall'una all'altra piazza l'obiettivo è quello di evitare l'abbattimento di 16 tigli 12 intorno alla palazzina del mercato del pesce e 4 al centro della piazza vediamo che è in piazza marcolini l'amministrazione comunale ha raggiunto un compromesso un compromesso accettato malvolentieri dagli ambientalisti e vedremo che cosa deciderà per piazza andrea costa ieri è intervenuta anche terna per annunciare ai residenti di carrara che dal primo giugno inizierà il monitoraggio dell'inquinamento acustico sulle case che sono vicine alla vecchia centrale elettrica si tratta di una decina di abitazioni cinque verranno monitorate la prima settimana altre cinque della seconda settimana dal primo giugno dunque partirà la seconda campagna di rilevamento acustico la prima è stata fatta ad aprile che questa volta riguarderà appunto dieci abitazioni abitazioni individuate fanno sapere da terna con la collaborazione dell'amministrazione comunale e dei residenti le apparecchiature saranno installate qualche giorno prima ma le misurazioni partiranno appunto dal primo giugno si svolgeranno in due tranche cinque casi per una settimana le altre cinque per ulteriori altri sette giorni e vedremo poi il risultato che daranno questi controlli soprattutto per quanto riguarda le emissioni sonore giorno e notte magari anche a fasi alterne che vengono emesse da un nuovo impianto che è stato installato da pochi mesi e che stabilizza un po gli sbalzi di corrente per evitare appunto che la corrente provochi problemi quando magari arriva improvvisamente e ad alte quantità e nello stesso impianto un episodio di cronaca un episodio di cronaca filmata mentre ruba le piante fuori dal locale è un locale di via roma ebbene questa volta la ladra una signora ben distinta sembra una signora sulla cinquantina tacchi alti ben vestita curata è arrivata a bordo di una utilitaria di colore chiaro ed è stata sorpresa dalle telecamere appropriarsi di due piante di particolare valore ebbene il proprietario lo vediamo qui nella foto si tratta di francesco pandolfi 33 anni che proprietario della pizzeria da pando su in via roma cosa ha fatto non l'ha denunciata insomma su due piante non sono un furto eccezionale però ha stampato le immagini tratte dalle videocamere in un foglio le ha fisse davanti al locale e gli ha detto guarda ti abbiamo sorpreso se lo rifai un'altra volta passi veramente dei guai evitiamo di altre fare di evitiamo di fare altre brutte figure insomma ha detto a questa donna e certo questa signora non ci ha fatto una bella figura ancora sulla pagina della valce di fano vediamo ancora un articolo flaminia arteria datata tagliolini sul piede di guerra nel mirino il tratto che va fino a cantiano ma anche quello umbro il dito è puntato soprattutto contro l'imbuto della galleria della contessa e speriamo che il ministero delle infrastrutture insomma dei lavori pubblici accetti quello che è stato deciso ultimamente in regione con l'anas ovvero quello di riproporre il progetto di quello che rimane da completare sulla fano grosseto a quattro corsie e non da due come è stato ordinato in precedenza accuse strumentali sul biodigestore bene il biodigestore di barchi è un oggetto di contesa di carattere politico soprattutto a terre roveresche dove è nato la campagna elettorale per l'elezione a sindaco dalla lista condividiamo il tema del biodigestore viene posto alla ribalta sono di mera strumentalizzazione le dichiarazioni che sono state fatte nella parte in cui ci accusano di voler nascondere la verità fino ad elezioni avvenute ha detto condividiamo la lista condividiamo perché perché le decisioni di convocare la conferenza dei servizi non spetta al comune bensì spetta alla provincia e insomma è un altro ente non il comune non c'entra nulla e poi ci sono questo dibattito tra chi lo vuole chi non lo vuole chi lo vuole in un posto qui non vuole null'altro comunque il biodigestore è sempre materia di contendere appassiona molto i cittadini a urbino a urbino servono portatori per il nostro santo ebbene è san crescentino di cui si festeggia la festa san crescentino è il patrono di urbino e viene portato in processione una statua piuttosto pesante che viene portata in processione da sei portatori e ora qualcuno è diventato anziano ci vorrebbe un ricambio sembra che questo ricambio sia un po difficile a trovarsi ecco perché oggi c'è un appello sulla pagina di urbino cercasi dei giovanotti insomma piuttosto robusti non è un'impresa epica è sì qualche dolorino alla spalla magari soprattutto nel tratto finale della processione dopo un lungo percorso potrebbe sentirsi ma in realtà poi la grazia di san crescentino farà presto passare il dolore il gruppo che muoverà il patrono è sempre più ristretto si cercano nuove leve farsi avanti non è poi così difficile dice il giornale una disgrazia un incidente per fortuna senza gravi conseguenze si ribalta per 50 metri con il trattore però è stato trovato vivo e non in cattive condizioni si tratta di un pensionato di 66 anni di pian di meleto stava aprendo una strada nel bosco improvvisamente gli ha ceduto il terreno ed è precipitato nella scarpata insieme al suo trattorino per fortuna era in compagnia del figlio che avvenuta la disgrazia ha subito chiamato i soccorsi ebbene per fortuna questi ultimi si sono sono stati i vigili del fuoco il 118 di macerata feltria che sono intervenuti i quali hanno recuperato il malcapitato in fondo alla scarpata all'inizio lo credevano morto per il terribile rotolamento insieme al mezzo invece hanno trovato l'uomo vicino alla pala meccanica ma non sotto quindi vicino e quindi si è salvato perché altrimenti se il mezzo gli si fosse ribaltato addosso probabilmente non avrebbe voluto scappo qualche notizia per quanto riguarda pesaro vediamo che qualche cosa si muove per quanto riguarda la penuria di asili nido questa volta in soccorso del comune di pesaro potrebbe giungere la regione marche sono disponibili 40 mila euro per i nidi ora sperano i 110 bimbi esclusi è una fetta questa del mezzo milione in totale che la regione marche assegna pesaro lunedì il provvedimento sarà discusso in giunta il comune dovrà decidere come impiegare questa risorsa marchionni ancora in ritardo ma pesaro non ha sollecitato ebbene dalla regione marche sono in arrivo contributi che potrebbero permettere alle famiglie pesaresi escluse dai nidi e di accedere al servizio la buona notizia potrebbe cambiare in meglio l'estate di un centinaio di bambini questa notizia arriva ad ancona ed è stata data dal consigliere regionale di fratelli d'italia nicola bayocchi comunque il condizionale è d'obbligo vedremo cosa decide l'amministrazione comunale anche il prefetto è stato coinvolto nella discussione relativa al pestaggio che è stato fatto da alcuni minorenni nei confronti dei propri coetanei pestaggi scende in campo anche il prefetto ricciardi e gli studenti chiedono più telecamere è emerso dal summit organizzato dall'usr ricciardi martedì poi incontrerà i ragazzi i presidi e i genitori per decidere su maggiori controlli il problema è quello di ordine pubblico si sono verificati due pestaggi nella stessa mattinata dei giorni scossi tra adolescenti per debiti di droga i quali hanno violato la serenità del campus scolastico di via nanter e acceso l'attenzione del prefetto il prefetto è molto sensibile all'ordine pubblico periodicamente convoca una commissione per fare il punto sulla situazione della provincia e insomma quello che coinvolge i ragazzi ebbe è un aspetto molto molto particolare di questa situazione che deve essere seguita con grande attenzione e vedremo che cosa si deciderà nella riunione dei prossimi giorni anziana ripulita condannata a una coppia di badanti gli hanno sottratto quasi 500 mila euro si tratta di un ex carabiniere e della moglie che è una estetista tre anni e mezzo a lui e due anni a lei questa è stata la sentenza pronunciata dal giudice insomma sono stati riconosciuti colpevoli di aver sottratto alla donna che accudivano appunto questa rilevante somma di denaro avevano accesso al suo conto corrente e via via le hanno sottratto questa somma mi fanno mancare il cibo e mi tengono lontano da parenti e conoscenti ha dichiarato al giudice la nonnina riferisce infatti che i due badanti l'avrebbero trattata male e le avrebbero fatto pesare di doverla accudire addirittura le limitavano anche il cibo il frigorifero era vuoto coppietta minorenne sparisce per due giorni una fughetta d'amore questa sono lui lei di fanno lui era di montecchio hanno passato 48 ore a riccione fin quanto lo sono finiti i soldi non avevano detto nulla alle famiglie o addirittura la famiglia di lei non si era nemmeno preoccupata di questa a piccola di questa assenza di due giorni invece quella dei genitori invece quella del ragazzo insomma avevano denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine ma terminati i soldi due ragazzi sono sono minorenni 17 anni lui e 16 anni lei sono tornati spontaneamente a casa chissà se avranno una lavata di testa ed ora passiamo al corriere adriatico vediamo l'apertura dedicata a fano vediamo che si apre con i problemi e la pagina si apre con i problemi della pesca è attiva solo la piccola pesca da una settimana sulla costa fanese quella che si dedica alla pesca d'altura è in sciopero l'abbiamo visto anche nei giorni scorsi perché è un problema che riguarda un po' tutte le marinerie dell'adriatico che hanno incrociato le braccia per così stimolare lo stato il governo a ridurre il prezzo del gasolio che è arrivato ormai ad una somma insostenibile per chi deve andare a pescare insomma le spese sono superiori ai guadagni è attivata solo la piccola pesca una mazzata per il settore lo ha dichiarato il direttore del mercato ittico angelo nardini sono solo le imbarcazioni appunto che praticano la pesca entro le tre miglia della costa a rifornire il mercato circa un'ottantina di cassette di pesce al giorno non di più di fronte alle centinaia che affluiscono negli altri giorni abitualmente insomma quando l'attività è in pieno svolgimento poca la quantità ma anche estremamente limitate le specie ittiche che si riducono a quelle pescate con i retini qualche seppia bombolini vanno in mare le vongolare ovviamente quelle sono sono estranei a questa agitazione comunque ne soffrono gli equipaggi delle barche a strascico che sono rimaste all'ancora in tutto l'adriatico un problema che si aggiunge ai tanti problemi che le marinerie hanno vissuto hanno supportato in questi ultimi tempi dalle condizioni del tempo dalle condizioni ambientali dell'adriatico dalla pandemia dalla guerra dall'aumento delle fonti energetiche insomma sembra che non ci sia fine alle ai problemi alle difficoltà che incontra un duro lavoro come quello del pescatore porto futuro al via la rigenerazione urbana ci sono problemi al porto li abbiamo appena evidenziati ma si tratta anche di prospettive speriamo che siano prospettive buone prospettive risolutive ebbene oggi parte una iniziativa interessante sono due associazioni che le organizzano umanesimo artificiale e carnage sono due associazioni fanesi che hanno organizzato un progetto si chiama porto futuro che coinvolge la città e la città che viene attirata al porto da oggi verranno organizzati alcuni laboratori di carattere scientifico poi ci sarà musica dal 18 fino a mezzanotte ci saranno dei complessi che si esibiranno appunto in zona porto ci sarà dello street food ci sarà la possibilità di consumare dei buoni cibi e di passare tempo permettendo perché abbiamo visto che il tempo un po' si è rannuvolato un buon fine settimana anche domani al porto di Fano inquinamento acustico al via il rilevamento svolto da terna abbiamo parlato di questo articolo accolto alla richiesta di Carrara il lavoro al lavoro il Cesi che è l'azienda che dovrà effettuare il monitoraggio è un'angente conosciuta e rispettata in tutta Italia presso dieci casi e poi vediamo la Fossombrone sulla pagina di Fossombrone si parla di siccità e degli studi del lato 1 lato 1 e la autorità d'ambito questi studi siano scrupolosi e pubblici la richiesta dell'associazione che ha riunito ente volontari ed esperti si tratta dell'associazione preseduta di cui fa parte appunto Cristiano Coen che ha condotto il dibattito a Fossombrone organizzato appunto dal gruppo civico Acqua in Rete ci aspettiamo ha detto soluzioni che rispettano l'equilibrio ambientale perseguendo gli obiettivi di efficacia ed efficienza purtroppo la siccità è un problema che coinvolge un po' tutto il territorio e i fanesi se ne accorgono guardando il livello delle acque del canale Albani in questi giorni che si è abbassato in maniera molto molto visibile a Mondolfo inventiamo una banconota primo arriva l'istituto Fermi è un concorso questo che si è svolto per raffigurare una banconota europea qui vediamo appunto il disegno vincente fatto dai ragazzi dell'istituto comprensivo Enrico Fermi di Mondolfo che si sono aggiudicati un premio di 2000 euro bravi questi ragazzi a Senigallia a Senigallia si parla di eventi una serie di spettacoli animerà l'estate ogni tanto se ne evidenzia qualcuno ebbene questa volta si parla di Rama che canterà dal tetto della rotonda il 24 luglio c'è poi la notte dei senigalliesi eventi estivi presentato il calendario la fiera campionaria torna nel parcheggio dello stadio Bianchelli ebbene dal tetto della rotonda dal 19 giugno canterà i Rama ospite della tre giorni di RDS mentre il 24 luglio dirette su Radio 105 e torna la festa della rotonda con un format rinnovato e quindi nuovi motivi per attirare turisti a Senigallia vediamo ora le pagine pesaresi del Corriere Adriatico eccolo si parla del San Bartolo uno spettacolo uno spettacolo della natura in cui ci si imbatte venendo da Trieste percorrendo tutta la pianura padana il primo rilievo che si incontra venendo a sud è il monte San Bartolo un monte piuttosto rilevante sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista ambientale appunto nei pressi di Pesaro ebbene per quanto riguarda il San Bartolo è stato lanciato un brand identity ovvero un emblema significativo, identificativo San Bartolo, la riviera lancia il brand identity l'unione fa il turismo l'accordo tra i comuni di Pesaro, Gabilce e Gradara si arricchisce del marchio una destinazione unica che mette insieme mare, natura e cultura è veramente molto bello fare una passeggiata sul parco del San Bartolo lo dico anche per chi non lo conosce per chi proviene magari dell'entroterra e può visitare Fiorenzuola, Castel di Mezzo per magari fare una capatina a Gradara sarà un'altra festa di presenze grazie al ritorno di Sporting Tour nei prossimi due weekend previsti oltre 2500 partecipanti un'altra iniziativa che arricchirà e movimenterà il weekend a Pesaro e qui parliamo di sanità parliamo di sanità per un motivo che fa riflettere nuova fuga di medici in blocco a Riccione che cosa è accaduto? è accaduto che nella Romagna c'è stato un bando per l'assunzione di nuovi medici appunto nelle strutture romagnole e chi partecipa a questo bando? ebbene ci sono diversi medici che prestano servizio al pronto soccorso di Pesaro ancora dunque una fuga hanno superato gli scritti, i test hanno superato a pie pari i test scritto, pratico e orale e già ieri hanno ricevuto l'offerta di assunzione dall'Ausl di Romagna a riprova della fame dei medici che si nutre anche nella regione limitrofa ma questo non fa altro che depauperare impoverire l'organico dei medici nell'azienda ospedaliera Marche Nord ancora una defiance al pronto soccorso del San Salvatore di Pesaro Campus più sorveglianza e le telecamere funzionanti studenti lo fanno presente al prefetto con l'ufficio scolastico l'opposizione presenta una interrogazione alla provincia sul problema della sicurezza e tutto abbiamo visto ha preso le mosse dalla aggressione dei giorni scorsi la confartigianato mecenate per la chiesa del nome di Dio una chiesa che si trova nel centro storico di Pesaro verranno restaurate due opere e altri interventi sono in programma per il territorio accolto dunque impegno e progetti per il territorio in questo periodo ancora difficile l'impegno di confartigianato diventa ancora più importante per le realtà imprenditoriali locali e l'associazione opera su più fronti insomma si combatte la difficoltà non con tirare i remi in barca ma con il riversare ancora più sostegni nel territorio e questo è merito appunto della lungimiranza degli imprenditori locali bimbi fuori dai centri estivi la regione lancia il salvagente bei occhi di Fratelli d'Italia fondi per attivare il servizio il centrodestra giunta senza più alibi ora se la giunta Ricci non accetterà questi fondi non li impiegherà per questo servizio dimostrerà appunto tutta la propria incoerenza nei confronti delle domande che sono state avanzate dai genitori di 110 bambini rimasti senza servizio a Monte Labate ragazzi in corteo per la pace e per dire basta alla violenza è una manifestazione molto partecipata che è stata organizzata dagli studenti della scuola secondaria di Monte Labate l'assessore Penserini ha dichiarato sono stati gli allunni a chiedere fortemente di poter manifestare era un desiderio di voler dire pace, pace, pace chissà se qualcuno in alto loco lo ascolta ma l'alto loco è molto lontano perché è nell'est dell'Europa e laggiù la voce si disperde nelle steppe appunto della ex Unione Sovietica a Urbino violenza e terrore con il macete Paolini ora interroga alla Camera i residenti di Canavaccio chiedono sicurezza il deputato della Lega pattuglie con un solo agente Luca Rodolfo Paolini interroga appunto alla Camera il governo sull'episodio dell'uomo che con il macete ha distrutto sedie cruscotti di auto vetrine di un locale a Canavaccio insomma era un po' fuori di testa ed è stato fermato non con poche difficoltà dagli agenti dell'ordine e questa era l'ultima notizia che vi segnalo nella giornata di oggi a questo punto vi auguro un buon weekend un buon sabato una buona domenica sperando che il tempo non si rovini completamente in modo che tutte le manifestazioni organizzate per questo fine settimana si possano svolgere noi ci risentiamo lunedì prossimo alle 7 buona giornata e a risentirci grazie Grazie a tutti.